Qui il ministro Sergio Costa, buongiorno. Buongiorno a lei. Perché questo è stato un po' il pericolo che da più parti si è paventato nel periodo del lockdown, insomma quel massiccio uso di mascherine, il massiccio uso di guanti, poi come vengono smaltiti. Avete dei dati da questo punto di vista? Beh, intanto abbiamo i dati che ci dicono che tutto ciò che la mascherina o il guanto sanitario ha un suo percorso già normato da molti anni e che non ha subito grandi problemi. Invece per noi... Con l'arrivo dell'estato, le coste, le spiagge... No, fortunatamente... Gli italiani come si stanno comportando? Bene, all'inizio ho notato che erano un po' disorientati, ma i dati ci dicono che si stanno comportando bene anche perché è passato il messaggio anche utilizzate le mascherine per esempio riutilizzabili. Quando non sei un operatore sanitario tu puoi utilizzare delle mascherine che puoi lavare, sanificare, tutto in casa e puoi utilizzare più volte, io stesso uso queste. Perché? Perché la mascherina ha una logica di precauzione per noi cittadini che non lavoriamo in ospedale e siamo la stragrande maggioranza. Ecco, l'operatore sanitario invece ha un percorso particolare. Allora, toccheremo tanti temi. Allora, partiamo dalla cronaca. Ieri sera c'è stata questa prima riunione del Comitato Interministeriale, insomma, lei ha partecipato a questa riunione, tra l'altro è un consiglio dei ministri allargato da quello che ho visto perché poi alla fine è allargato dal Presidente di Regione, Provincie e Comuni. Com'è andata? Che cosa si è deciso? Che cosa è successo? Beh, è andato molto bene nel senso che è stato il primo incontro per mettere, come si dice, palla al centro presieduto dal Premier e quindi un po' dettare le linee politiche nelle quali muoversi. In buona sostanza vuol dire, facciamo presto, queste sono le direttive che l'Unione Europea ci chiede di applicare, ognuno di noi prende su di sé la propria competenza e propone qualcosa di concreto. Oggi pomeriggio l'incontro tra i tecnici di ogni ministero con l'inizio della fase progettuale, quindi qualcosa che lei lo sa come sono fatto, sono molto concreto. Per fare i compiti a casa. E tra l'altro uno di queste proposte a cui tiene particolarmente l'Europa è appunto l'ambiente e il discesso idrogeologico. Assolutamente sì, è il perimetro, cioè l'Unione Europea ci dice una pregiudiziale di base è mantenetevi nel perimetro del green, quindi qualsiasi progetto fate deve avere questa visione, perché c'è la voglia, l'intento, come Unione Europea, ma l'Italia ovviamente ci sta benissimo dentro, di orientare tutto il cambiamento verso il green. Quindi 209 miliardi che vengono spesi anche e soprattutto in quella direzione. Vuol dire tanto questo? Per quanto riguarda proprio il discesso idrogeologico, abbiamo passato, insomma, a fine settimana abbiamo rivisto le immagini per l'ennesima volta di Milano, per l'ennesima volta l'isondazione del Seveso, per l'ennesima volta gente disperata, chi aveva negozi, che il bar, insomma, esercizi, case stesse completamente allagate. Ho letto contemporaneamente una sua intervista su Repubblica dicendo che ci sono 11 miliardi che i comuni non spendono. E lì sono saltato sulla sedia. Cioè, quei soldi sono tanti, 11 miliardi. Allora, quei soldi ci sono intanto, anche se una quota parte sono quelle per le emergenze, cioè la protezione civile, che vuol dire l'intervento quando la situazione... Sull'emergenza. Sull'emergenza, quando la situazione ormai è deflagrata. Ma moltissimi ci sono invece per la prevenzione, che è l'elemento più importante. Ora, non è che i comuni non vogliono spenderli. C'è un tema che io, da quando sono diventato ministro, ho affrontato. E cioè, c'è il tema che mancano le progettazioni esecutive. Allora, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo assistito i comuni e le regioni per le progettazioni esecutive, perché altrimenti i soldi sono dati così, a pioggia. Invece devono essere dati per progettazioni precise e puntuali. Bene, la grande novità è che finalmente le progettazioni stanno arrivando. Ma l'altro aspetto è, semplifichiamo la procedura per fare queste progettazioni. Le spiego in modo molto concreto. Un piccolo comune, magari della dorsale Appennina, che ha un geometra, poverita, scavalco tra tre comuni, come fa una progettazione di sesto idrogeologico, che a volte sono anche complicate? Noi abbiamo preso una società in house del Ministero dell'Ambiente, tutto gratuitamente si chiama SOGESI e l'abbiamo messa a disposizione dei comuni. Tradotto vuol dire che finalmente si sta facendo questo. Nel decreto semplificazioni, nella legge semplificazioni, è già scritto tutto questo. Quindi oggi verifichiamo che si corre molto più veloce. Chiaro, c'è un tempo tecnico da superare, cioè quello che è successo a Milano, a Palermo, figlio di situazioni precedenti. Però finalmente si parte. Le dico anche una news di ieri sera, che mi fa piacere dirlo, lei è il primo che lo sa. Lo sanno tanti italiani, insomma, in questo momento. Speriamo tanti. Speriamo tanti. Che ieri il Ministero dell'Economia e delle Finanze ci ha finanziato oltre 800 milioni di euro per progetti esecutivi sul distesto idrogeologico, sulle bonifiche e sulla depurazione delle acque. Perché? Vedete, progetti esecutivi. Da questo punto di vista, però, ecco, la ringrazio per la notizia. Non so se hai letto il manifesto stamattina. Il manifesto stamattina riporta un appello di 160 organizzazioni ambientaliste, comitati interregionali, 160 sono tante, organizzazioni nazionali e locali. Il decreto di semplificazione è un attacco all'ambiente. Il decreto di semplificazione è un attacco alle bonifiche, all'acqua e all'ambiente. È un decreto che contiene norme che ritardano e addirittura annullano le bonifiche dei siti inquinanti, da Taranto a Gela, da Mantua a Bussi nel Tirino, a Pescara, da Brindisi a Venezia, di mezzo nei tempi già molto risicati per la partecipazione dei cittadini nelle procedure di valutazione d'impatto ambientale. Moltiplicano poltrone con l'istituzione di una seconda commissione. Ma io non concordo. L'ho anche rappresentato e anche con una relazione scritta. È un attacco diretto al Ministro dell'Ambiente. Insomma, la sua storia la conosciamo benissimo. Il decreto di semplificazioni, il ponte di Genova, le abbiamo fatto anche tante puntate, le abbiamo anche discusso tantissimo qui, insomma, su quanto è importante in questo momento in Italia sbrigare, accelerare, insomma, quelle che sono le operazioni burocratiche. Questo può pregiudicare, che è l'allarme, insomma, che danno queste associazioni poi un attacco all'ambiente? Secondo me no. Le spiego subito. Semplificazione non vuol dire semplicismo. Vuol dire semplicemente togliere quei gangli burocratico-amministrativi che bloccano la spesa. Ma non vuol dire semplicismo, cioè ridurre la valutazione ambientale, per esempio, di un'opera pubblica a qualcosa di si deve fare, di formale, ma non di sostanziale. Tant'è vero che noi siamo l'unico paese in Unione Europea, anche con la legge semplificazioni, ancorché attaccata da alcune associazioni, che mantiene degli standard di tutela superiori alla media dell'Unione Europea. E quindi che cosa vuol dire? Comunque abbiamo mantenuto un livello alto. Ma poi c'è anche un elemento tecnico da questo punto di vista. La partecipazione pubblica, per esempio, non è schiacciata, come si suol dire. C'è modo di intervenire. Io sono tranquillamente molto sereno, lo posso anche dimostrare in atti concreti, il perché non mi fa paura il decreto semplificazioni. Poi è chiaro, per carità, va in Parlamento, il Parlamento sovrano aprirà il dibattito. Su questo sono sereno, che sarà un dibattito ricco. Sulla questione, per esempio, della doppia commissione via, sa qual è l'origine? Noi abbiamo bisogno di cambiare il paradigma energetico. Ora, che cosa vuol dire tradotto? Vuol dire che nel momento in cui tu fai, per esempio, del fotovoltaico, le faccio un esempio concreto, per fare il fotovoltaico, oggi lo metti insieme a tutto il sistema delle valutazioni ambientali. Bene, invece noi abbiamo immaginato una commissione tecnica, senza costi aggiuntivi, gratis, fatta da tecnici, Enea, Ispra, CNR, quindi grandi studiosi, che analizza solamente, per esempio, il piano energetico. Perché se vogliamo uscire dal fossile, dobbiamo far presto. Per uscire dal fossile, andare verso un'energia alternativa, ho bisogno di fare una commissione che si dedica solo a quello. Perché altrimenti staremo sempre a lamentarci che siamo nel fossile, non lasciamo il fossile per le alternative, ma le alternative non le riusciamo a costruire. E bisogna essere anche concreti e pragmatici. Questo mi sembra. E tra l'altro tutto gratis. Senta, allora adesso veniamo invece al bonus mobilità. Allora, bonus mobilità, siamo arrivati alla fine di luglio. Bonus mobilità, per chi non lo sapesse, è un bonus che dà la possibilità, praticamente, di un rimborso da parte dello Stato, per l'acquisto di bici elettriche, monopattini, monopattini, bici, segue, ecco, tutte quante queste cose. Tra l'altro, ricordo, nel periodo del lockdown, praticamente le file che c'erano davanti ai negozi per l'acquisto appunto di bici, di bici elettriche, e l'elenco che abbiamo fatto prima. Allora, sì, doveva arrivare l'app, doveva arrivare questa piattaforma. Non è arrivata. La preoccupazione, allora, andiamo in ordine, le preoccupazioni sono l'imborso dei soldi, cioè, abbiamo la disponibilità economica per imborsare tutti? confermo, anzi, su questo mi fa piacere che mi fa questa domanda perché mi consente di ringraziare il Parlamento perché è andato talmente bene che io avevo previsto 120 milioni di euro come stanziamento. Siamo arrivati a 210 milioni di euro perché il Parlamento ha intuito che c'era una voglia del cittadino italiano di poter, di voler acquistare e quindi mi ha aumentato il plafond, 210 milioni di euro per l'anno corrente mi sembra una cifra importante. Tra l'altro, tenendo conto che sono tutti fondi che provengono dalle aste verdi, sai che vuol dire? Che sono, praticamente, quel fondo che si costituisce con gli inquinatori. Coloro che inquinano devono pagare perché vengono aggrediti, diciamo, dallo Stato e finiscono nei fondi che servono per costruire una mobilità alternativa che invece è ecologica. Le dico anche che la piattaforma ormai ci siamo, abbiamo chiuso finalmente. Il 6 agosto è l'ultimo step va alla conferenza permanente Stato-Regioni perché è giusto che le regioni possano pronunciarsi sul bonus e dopo finalmente decolla. La preoccupazione del click day quindi non c'è? Cioè la preoccupazione di... I fondi ci sono per tutti. Quindi sono per tutti e riguardano gli acquisti che vengono fatti da maggio fino alla fine dell'anno. Assolutamente. Senta, poi veniamo a un'altra cosa. nella cronaca italiana in questi giorni si torna a parlare di M49. Per chi non sapesse chi è M49 insomma è l'orso che è ribattezzato ormai Papillon ci può raccontare Papillon perché insomma è abilissimo nelle fughe. Ci può raccontare brevemente che sta succedendo? Beh allora l'orso Papillon appunto un orso che vive nel Trentino è stato catturato dalla provincia autonoma di Trento è stato messo in un grande recinto dove vive perché ha creato una serie di danni. Un'ordinanza autonoma del presidente della provincia di Trento che mi ha visto contrario ma c'è un rispetto istituzionale lui ne ha la titolarità io non posso dire nulla e evaso praticamente due volte. radio collarato che vuol dire che ha un collare che consente anche il monitoraggio però di quest'orso quindi vuol dire che il corpo forestale della provincia autonoma di Trento sa perfettamente come si muove e questo è il motivo per cui dico abbatterlo ucciderlo ammazzarlo per essere proprio chiari 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 non ha nessun senso per carità non lo fate è l'appello che io faccio al presidente Fugatti col quale mi sono sentito recentemente che mi ha escluso questo suo intento però io comunque rinnovo a tutti quanti non abbiate paura lui non ha mai aggredito una persona fa l'orso vuole mangiare vuole stare in santa pace come si suol dire e quindi fa l'orso senta un altro tema adesso tutti quanti gli italiani stanno cercando insomma di godersi questo periodo d'estate nelle spiagge i mari il lockdown l'effetto paradossale che ha creato che ha dato la possibilità insomma ai mari italiani di respirare di più perché praticamente meno navi meno barche da questo punto di vista meno scarichi ed è una cosa da conservare assolutamente sì è da conservare ma concretamente come intanto noi nei tre mesi abbondanti di lockdown ci siamo già riorganizzati col sistema dei controlli sia dei agenziali cioè vuol dire delle agenzie per la protezione dell'ambiente che delle forze di polizia tant'è vero che vedendo anche diciamo cosa dicono i mass media ci si accorge che ha aumentato in modo geometrico cioè tantissimi sono cresciute le denunce i sequestri che le forze di polizia e i controlli ambientali vengono fatti perché? perché quando si ricomincia non si deve ricominciare come si è come si è lasciate alla situazione questo è già un elemento e poi fortunatamente stiamo partendo e questo io sono orgoglioso con tutti i sistemi di depurazione anche questi sono i famosi progetti esecutivi a cui facevo riferimento poc'anzi che devo dire l'età gli enti locali le regioni e il ministero finalmente hanno trovato questa quadra per poter spendere bene i soldi e per poter poi ottenere risultati e conservare il mare pulito mi fanno cenni che dovrebbe esserci no a posto risolto saltavo a posto così abbiamo risolto c'è stato un piccolo problema tecnico voi non sapete quello che succede dietro le quinte lo sta vedendo il ministro perché vede a girarsi no abbiamo questa possibilità allora c'è al telefono Carlo Calenda non so per quale motivo Calenda mi sente? buongiorno che cosa è successo? ci siamo salutati prima ci siamo salutati prima ma dopo che ci siamo salutati l'onorevole Andrea Romano spero sia ancora collegato no non è più collegato perché sono con il ministro Costa adesso buongiorno come stai? buongiorno bene tu? bene un frullatore ma bene ho un minuto alla chiusura quindi poi mi chiamate con il ministro siccome ha detto cose gravemente legive della mia reputazione tengo solo a precisare che le mie presenze ai voti al Parlamento Europeo sono l'86% e che sono in anticipo con la consegna del rapporto sulla politica industriale di cui sono responsabile per il Parlamento Europeo è buona norma quando una persona parla in modo a sproposito e con cose leside della reputazione in una trasmissione televisiva che gli si faccia notare che questo si fa in confronto non da solo perché se no è una cosa disdicevole sia per lui sia per la trasmissione infatti con Andrea Romano ho detto che non c'è neanche bisogno di difendere o quando uno parla di una persona che non è in presenza è sempre cattiva norma comunque ha fatto bene a chiamare e a precisare tutto questo per il proprio lavoro siccome vengo pagato per fare il mio lavoro credo che sia comunque giusto la telefonata dire a questo rendere conto ai cittadini quindi sono ben presente a Bruxelles e sui rapporti di cui sono titolare scusate l'interruzione mi scuso col ministro ciao Carlo grazie grazie ringraziamo Calenda anche per questa per questa precisazione allora ultima domanda perché siamo veramente in chiusura terra dei fuochi sì terra dei fuochi a che punto è un argomento che ovviamente lei conosce benissimo a che punto siamo che le sta molto a cuore a che punto siamo e poi soprattutto se c'è in questo periodo in questa fase magari le aziende che sono un po' tra virgolette alla canna del gas per risparmiare dei soldi tornare a quelle pratiche allora gli incendi sono diminuiti questa già è una notizia ed è un fatto un dato ufficiale però io voglio che gli incendi dei rifiuti in terra dei fuochi siano zero fortunatamente ma adesso io voglio dimostrarlo con i fatti abbiamo firmato un protocollo per una straordinaria pulizia dei rifiuti e per dare le telecamere che il ministero dell'ambiente darà gratuitamente ai comuni maggiormente interessati tutto questo insieme alla prefettura e voglio ringraziare la ministra Lamorgese perché rispetto al conte 1 oggi col conte 2 io ho un ministro dell'interno col quale riesco a lavorare bene assieme e i risultati pian pianino stanno arrivando chiedo ancora un po' di fiducia perché pian pianino li stiamo mettendo uno dietro l'altro l'avrebbe fatto il presidente della regione in Campania? ma è una bella domanda io sono un servitore dello Stato se il consiglio dei ministri me l'avesse chiesto penso che avrei detto di sì perché il consiglio dei ministri cioè il consiglio dei ministri nel senso che se la maggioranza sì bravo in questo senso volevo dire però sarebbe stato particolarmente pesante non lo posso nascondere per motivi anche familiari è arrivata nel frattempo ecco l'altra notizia il ministro Padonelli ha la firma dei decreti attuativi per quanto riguarda i super bonus abbiamo parlato insomma di bonus di tutt'altra natura sono arrivati proprio adesso stavo leggendo adesso l'agenzia per essere firmati dal Mise due decreti attuativi relativi al cosiddetto super bonus del 110% inseriti nell'ADL rilancio che per quanto riguarda la ristrutturazione insomma che noi abitiamo quindi la stragrande maggioranza dal punto di vista energetico non sono performanti farlo e non spendere un euro praticamente perché hai il 110% indietro o lo si fa adesso è bravo o lo si fa adesso o non lo si fa più però vuol dire finalmente anche valorizzare il proprio patrimonio oltre che migliorare energeticamente ringrazio il ministro dell'ambiente Sergio Costa per aver partecipato stamattina adesso la linea va ad Andrea Pancani e a Coffee Break noi ci rivediamo domani mattina per il dibattito sempre a partire dalle 8 buona giornata